Non sappiamo se quello che stiamo per vedere è l'effetto del maltempo oppure no, ma fatto sta che i nostri reporter di strada questa mattina hanno pubblicato sulla pagina, sul nostro gruppo Facebook, queste immagini che riguardano il canale Albani e un'alta concentrazione, come vedete, di schiuma, di detergenti, almeno così sembrerebbe. Siamo all'altezza della darsena borghese, non è la prima volta che succede, tra le possibili cause, fanno sapere gli esperti, potrebbe esserci anche quella di uno scarico delle acque meteoriche, solite a creare questo tipo di fenomeno, oppure quello delle acque reflue urbane. La presenza delle bolle di schiuma ha incuriosito molti passanti che appunto hanno postato sul nostro gruppo e inviato queste segnalazioni chiedendosi appunto di che cosa si trattasse.